Una bella, bionda, prosperosa, labbra carnose, rossetto rosso, occhi azzurri, belle tettone, si presenta ad un colloquio di lavoro presso un'azienda molto prestigiosa. Allora il titolare la coglie nel suo ufficio, guarda la sua scheda, il suo curriculum. Salve signora Francesca, stavo leggendo il suo curriculum ma non ho avuto il tempo necessario per metterlo a fuoco. Allora mi dica signora Francesca, lei come se la cava col computer? E sta signora, ma lei forse mi prende in giro? Io conosco tutti i programmi a memoria, io sono laureata in informatica, conosco tutti i software esistenti al mondo. Ah, complimenti signora Francesca, veramente lodevole. Senta e mi dica, ma la patente di guida ce l'ha? Ma lei, signor titolare, forse veramente mi sottovaluta. Io ho la patente di guida, ho la patente nautica, ho la patente per la moto e ho addirittura il brevetto per alcuni aeroplani. Mamma mia, ma lei signora Francesca è veramente un fenomeno, mi stupisce ogni minuto di più. Senta, ma mi dica, ma invece con le lingue come se la cava? Ma signor titolare, ma stiamo scherzando, con le lingue? Ma io conosco benissimo sei lingue completamente, ho vissuto in sei paesi diversi e lì ho anche lavorato tra l'altro, quindi ho anche fatto molta pratica sul posto. Beh, signora Francesca, veramente lei mi sta stupendo in una maniera veramente eccezionale. E un'ultima cosa, signora Francesca. Senta, ma coi pompini, come se la cava? E lei? Mi dispiace, signor titolare, ma con i pompini non sono proprio capace. E lui? Ai ai ai, signora Francesca, ci dobbiamo risentire purtroppo.